segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te incrociato potremmo dire nei confronti di bruxelles e soprattutto nei confronti di gentiloni questa questa sorta di noi siamo partiti proprio con questo argomento per non indebolisce un po diciamo il potere trattativa il dato vero che nessuno può pensare che un commissario di della commissione europea possa essere il rappresentante nazionale diversamente dopo tre mesi quel commissario sarà messo nell'angolo alla grammatica europea quindi è ovvio che deve essere e deve concorrere a una definizione riserva per tutti dinanzi a questa ipotesi è vero e insomma l'intervento del mio amico salvini e più per fare come si dice a napoli a muina è vero che non fare non dimentichiamolo dito a chi ci ascolta che salvini una volta disse a ciampi presidente del consiglio lei non mi rappresenta perché io sono un comunista padano ma è stumparso la padana e il comunismo è stumparso però è rimasto il centro pomicino e poi ci entriamo e poi ci entriamo poi ci entriamo sul tema sul tema del centro però è stupito se posso dire solo una cosa rapidamente poi devo cambiare io sottoscrivo la mozione pomicino tutta la su tutta la linea mi ha stupito la cosa di italiani la notizia di italiani che ho dato poco fa cioè dal ministro degli estri anche dalla storia che ha italiani mettersi in fila in coda nell'attacco al nostro commissario europeo questo un po mi ha stupito perché il commissario europeo non gioca con la maglia della nazionale italiana rappresenta il governo della commissione siccome italiani lo sa anche lui e il fatto di perché è partito l'attacco nei confronto di città non è che forse siccome c'è una manovra che non riscuote grande successo che dovranno spiegare agli italiani perché non quelle promesse che avevano fatto non ci sono allora ora si trova come dire si trova il nemico tra virgolette che è il nostro commissario europeo credo che sia questa la strategia perché se no non si spiega allora cambiamo argomento cambiamo tema avevo detto prima della pubblicità